Io non so come ha fatto, è andata a Brescia in un anno ha riportato il Brescia al Serie A e col cane era successo solamente una volta Io non so come ha fatto, ma l'ha fatto Io sono giocato con un componente alla rosa oggi il mister l'ha tenuto fuori e quando sono diventato si scamberebbe il contenuto alla squadra Eeeh, è tirato, polka! Ha tirato! Eeeh, è tirato! Troppo polemici contro la squadra, attaccati troppo Nei momenti, anche brutti Manzucic è... è un giocatore di carattere, è un giocatore che può fare il difensore centrale Secondo me potrebbe far bene anche la mezzala Portiere no, portiere no Non sei sicuro, sei sicuro, sei sicuro, guarda due Cioè non è assolutamente una festa a secoletto Siccome si è di stampa locale, non si è di stampa nazionale Va bene? Se lo entrare non se lo scendiamo Vi dato un pezzettino così andiamo a giocare al Cireale in questo posto qui Eh! Eh, 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 eh 10-9 Eh, Bonucci, sei andato Eh, 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 eh Quindi sei andato e lì a perso Eh, sei a zero, eh! Che dai fa' Eh, quando sei un'esce nella fase Prende la decisione È andato via È tornato Andrezza È capitato Anche capitato fa un altro Se vuoi la fascia, la compri e vai in piazza a giurare con la fascia. Guarda, guarda, guarda di palla che gioca contro lì, guarda, guarda. Ho fatto soltanto il mio dovere, ma di tanto mi capita anche di sbagliare delle partite. Togli, si, la mia qua, la mia qua! Questo mi ha dato al mio, perché non mi fa le formazioni, anche perché se devo piacere, io giocarei sempre sicuro. Su l'arco, vabbè, potrebbe essere la successione. Bene, bene, non è che la non ti fai, ma tutti, non mi posso meravigliare. Quindi nel bene di tutti, in generale, la scuola è un bacio a casa, solo nei momenti particolari. Questo chiuso e vi saluto. Grazie a voi, anche quest'anno ci ha dato. Non mi chiedi con le mani! Grazie a tutti!